Non dobbiamo aver paura di dire questa verità. Il mondo è in guerra perché ha perso la pace. È una guerra a pezzi, come dico da tempo, ma è guerra sul serio, non guerra di religione. C'è una guerra di interessi, per i soldi, per le risorse della natura, per il dominio dei popoli. Tutte le religioni vogliono la pace e la guerra la vogliono gli altri. Papa Francesco lo ha detto ai giornalisti sul volo che da Roma lo ha portato a Cracovia, il giorno dopo l'assassino di Don Jacques Hamel, ucciso nella sua chiesa in Normandia da terroristi islamici. Nel suo saluto ai 70 giornalisti che lo accompagnano in questo quindicesimo viaggio apostolico per la giornata mondiale della gioventù in Polonia, nella città che per 15 anni ha avuto come arcivescovo Karol Uytiwa, Papa Bergoglio ha ricordato il parroco francese, un santo sacerdote che è morto quando offriva la preghiera per la Chiesa. Ma pensiamo a quanti cristiani, quanti innocenti, bambini, sono morti. Pensiamo alla Nigeria. È guerra. E ha ringraziato chi lo ha chiamato per le condoglianze come il presidente francese Hollande, che mi ha chiamato come un fratello, ha detto. Pensando alla GMG, il Papa si è augurato che i giovani ci dicano qualcosa che ci dia speranza. Pensando alla GMG Pensando alle giud Rabbi generale